Don Felix, in occasione del ventennale della parrocchia del Santissimo Salvatore esce una pubblicazione, una pubblicazione dove è chiaramente una raccolta di tutte quelle che sono state le attività e il percorso di questi anni. È vero che noi vogliamo conservare le memorie sia della parrocchia che della nostra zona, perché il nostro Vescovo, a fine della visita pastorale che ha fatto qui, citando Don Lorenzo Milani, un sacerdote che ha dato molto per i poveri, diceva che la povertà dei poveri non si misura a pane, caldo, casa, ma sul grado di cultura. Quindi è importante la cultura per noi, conservare queste memorie per i giovani che domani dovranno partire da queste memorie per costruire anche il loro futuro. La parrocchia, lei chiaramente ha fatto molte cose per quanto riguarda l'aspetto sociale, soprattutto per i bambini. Sì, per i bambini e ragazzi, oltre a questa biblioteca che è il luogo di lettura, di cultura per i giovani. Abbiamo anche l'oratorio con tantissime attività che facciamo per i giovani, i bambini. Tant'è vero che sabato prossimo, sabato 14, dovremo accogliere qui in parrocchia il coro dei ragazzi di Scampia, perché siamo gemellati con la biblioteca di Scampia, le nuvole di Scampia. E in quell'occasione canteranno i ragazzi di Scampia, ma anche i nostri bambini della parrocchia, il coro Gli Angeli di Sotto il Monte. Ecco, quindi facendo un po' un quadro della situazione, in termini di recupero anche di tanti ragazzi, come per esempio in territori difficili, come può essere il territorio di Scampia. Quindi quanto è importante partire dal discorso musica, teatro, quindi sotto un profilo ludico, ma alla base la cultura? Sì, ma anche il teatro, anche la danza, il cineforum che facciamo, sono attività effettivamente che cercano di recuperare questi ragazzi, questi bambini in difficoltà, che magari pure a casa non trovano spazi, non trovano magari il silenzio dovuto per lavorare, per studiare. E vengono qui, e meno male che ci sono ragazzi pure volontari, che dedicano il loro tempo per aiutare questi bambini in situazioni difficili. Grazie.